Nonostante l'indisponibilità dei sindacati che non sono riusciti a partecipare alla nuova riunione di ieri del tavolo permanente sugli investimenti di Eni, il sindaco Lucio Greco ha comunque deciso di chiedere un incontro al ministro dell'ambiente Sergio Costa, l'esponente del governo Conte in quota Movimento 5 Stelle, è stato in tour sull'isola proprio in questi giorni ma da Gela non è passato, deve apporre la firma al decreto per prorogare la valutazione di impatto ambientale fondamentale per l'avvio vero e proprio dei cantieri della base gas di Eni, l'investimento finanziariamente più rilevante previsto nel protocollo di intesa di 5 anni fa. Senza quei lavori rischiano non solo gli operai dell'indotto, molti già senza contratto rinnovato, ma anche i dipendenti del diretto. Gela non vuole perdere quest'occasione di sviluppo che darebbe una boccata di ossigeno ad un'economia già in ginocchio, ha spiegato il sindaco. Pare che i manager di Eni presenti al tavole che nei giorni scorsi avevano chiesto di spostare la riunione al primo pomeriggio di ieri, sono disponibili a partecipare all'eventuale vertice con il ministro. Negli ultimi tempi i rapporti tra il sindaco e i vertici locali del Canas e Zampe sono apparsi piuttosto freddi dopo il caso Gelas. Dalla riunione invece sembra emergere maggiore condivisione. Il termine ultimo per ottenere la prorogavia dovrebbe scadere il prossimo 29 novembre. A conclusione della precedente riunione del tavolo di confronto, amministrazione e sindacati avevano dato come scadenza quella del 10 novembre che non ha dato esito. La proroga non c'è ancora. Al confronto hanno preso parte i deputati regionali Nuccio Di Paola e Giuseppe Arancio, il vice sindaco Terenziano Di Stefano, il reggente di Sicindustria provinciale Gianfranco Caccamo e il presidente di Raffineria Francesco Franchi. I sindacati nel corso della giornata di ieri avevano comunicato l'indisponibilità allo spostamento pomeridiano del vertice che si è comunque ugualmente tenuto. A questo punto bisognerà capire se ci sarà un incontro ufficiale tra il sindaco e il ministro dell'ambiente Sergio Costa, sempre che prima non venga rilasciata la prorogavia che dovrebbe dare l'avvio ai cantieri per la base gas.